Una nuova fabbrica per implementare la presenza sul mercato più importante, Fiocchi Munizioni raddoppe gli stabilimenti negli Stati Uniti con un nuovo polo produttivo a Little Rock in Arkansas, che si affiancherà a quello che già da anni opera in Missouri, ad annunciare all'operazione responsabile della Fiocchi of America, azienda del gruppo con sede centrale Alecco. L'apertura della nuova fabbrica fa parte della strategia industriale del gruppo Fiocchi, che prevede un'importante espansione nel Nord America, strategica per venire incontro alla crescente richiesta del mercato statunitense e internazionale, spiega l'amministratore Stefano Fiocchi. Un trend che le previsioni danno costante in futuro e che ha spinto nelle scorse settimane la sussidiaria USA e della società lecchese a procedere all'acquisizione anche di nuove proprietà e tecnologie con l'obiettivo di ampliare le capacità produttive del gruppo. Fiocchi ha identificato l'Arkansas come il candidato ideale per la sua espansione in base alla collocazione geografica, al clima legislativo e al numero di potenziali dipendenti specializzati disponibili nella zona, ha dichiarato Jared Smith, general manager di Fiocchi USA. L'operazione porterà all'assunzione iniziale di 85 addetti specializzati che saranno reperiti nel comprensorio dell'Hitter Rock in senso più ampio in Arkansas. La mano d'opera è destinata però ad aumentare nei mesi successivi fino a che la nuova fabbrica raggiungerà la piena capacità produttiva e occupazionale. Da rilevare che nello stabilimento dell'Hitter Rock si produrranno tra l'altro palle e bossuli che permetteranno al catalogo Fiocchi di aggiungere ulteriori voci. I Stati Uniti, in cui Fiocchi opera da oltre 35 anni attraverso una presenza consolidata, rappresentano non solo il primo mercato mondiale del settore ma anche il mercato più importante per l'azienda, considerato che è qui che nel 2017 è stato realizzato oltre il 50% dei ricavi, conclude Stefano Fiocchi.